E15 C41 857 Pomodoro ciliegino giallo per raccolta a grappolo e frutto singolo E15 C41 857 è il nuovo pomodoro ciliegino giallo Dolcissimo, ricco di antiossidanti, squisito Il lancio nel mercato è previsto entro il 2021 E sicuramente sarà apprezzato anche in cucina per la creazione di tantissime ricette gourmet Il ciliegino giallo è ormai considerato una realtà nei consumi giornalieri Uno dei veri protagonisti della famiglia dei pomodori E15 C41 857 inoltre è facile da coltivare Con un set di resistenze notevoli che garantiscono all'agricoltore una produzione elevata e di ottima qualità Grazie a tutti